Perché indossi sempre le cuffie? Mi date della maleducata? Distratta? Distaccata? Disinteressata forse? Del resto è buffo come viene giudicato che si allontana dal mondo con l'uso di semplici cuffie o chissà un libro. Insultate, giudicate, ma questo semplice oggetto, questo legame che mi ha protetto più di certe persone, è il mio mondo. Perché parliamo del mondo nuovo quando dovremmo guardare quello di adesso. Non mi piace parlare del futuro, ma mi piace scrivere su quello che mi circonda. Io uso le cuffie perché non voglio prendere parte ad un mondo che giudica, che settorizza, che trascura e che modella la vita di alcune persone come fa comodo ad altre. Il mondo è così piccolo, minuscolo eppure tanto gigante. tanto prezioso ed è capitato proprio nelle mani di noi uomini. Piccoli mani che hanno imparato a costruire, che hanno imparato a plasmare, ad adattare, a dividere, che hanno imparato a costruire. Mani che hanno imparato che l'unione fa la forza, che il vero tesoro è nelle persone e che la vera ricchezza è il sapere. Abbiamo imparato che ciò che abbiamo imparato va condiviso. La differenza base tra noi e gli animali è la razionalità. A mio parere non dimostriamo questa differenza, perché con tutto quello che abbiamo imparato a fare non sappiamo ancora fare nulla. Sto generalizzando, perché ognuno può essere diverso e pensare a modo proprio, ma il mondo in cui viviamo è lo stesso. Le nostre vite saranno sempre influenzate da altre. Questo mondo dovrebbe essere la nostra casa. Io qui non mi sento a casa. Molte altre persone non si sentono a casa da nessuna parte. Perché noi umani siamo finiti col distruggere, con l'essere chiusi e rigidi. Perché siamo egoisti. Perché stiamo vivendo in un mondo che trabocca di odio e indifferenza. Giudichiamo troppo. L'unica cosa che conta è la ricchezza materiale e il potere. Dov'è la nostra umanità? Per andare oltre stiamo calpestando e sorpassando persone e ai principi. Ma una delle mie infinite domande è andare dove? Abbiamo tutti una data di scadenza. Perché rovinare tutto fino a quel giorno? Cosa ci si guadagna se poi ci si perde allo stesso modo? Una cosa che impari vivendo è che il dolore deve esistere, la tristezza ci deve essere. La sofferenza serve, ma tutto questo prima o poi deve valerne la pena. Ed invece per molti non è così. Questa è la realtà che i miei occhi vedono adesso. È da questo che vorrei allontanarmi. Per un mondo nuovo avremmo bisogno di un'umanità diversa, evoluta. Non solo nella scienza, nella tecnologia o nell'economia. Perché l'uomo è tanto bravo a cambiare ciò che lo circonda, ma non è altrettanto bravo a cambiare se stesso. Cambiare se stessi è estremamente difficile. Soprattutto perché cambiare significa in primis riconoscere che il problema sei tu e non sono gli altri. È molto facile attribuire la colpa agli altri. Oggigiorno, se c'è un problema di qualsiasi natura, è colpa dei migranti, è colpa della Nazione X che inquina di smisura, è colpa dello Stato. Tutto questo perché riflettiamo sempre meno prima di prendere una decisione. Se lo facessimo, ci renderemo conto che il 99,9% delle problematiche che spingono milioni di persone a emigrare derivano dai segoli di sfruttamento materiale e fisico di quei paesi, di quelle popolazioni da parte nostra. Ci renderemo conto che l'inquinamento della Nazione X è causato spesso e volentieri dalla produzione di prodotti che noi acquistiamo ogni giorno, come telefonini, come vestiti e come tanto altro. A noi giovani viene in continuazione ripetuto che saremo noi i padroni del futuro. Ed è vero. Ma che tipo di adulti saremo dipende anche da voi, adulti d'oggi. Mi sembra che il mondo ci stia educando, volente o non volente, all'indifferenza. All'indifferenza nei confronti della violenza, all'indifferenza nei confronti delle persone e all'indifferenza nei confronti delle situazioni. Ci sta educando all'abitudine, alla sofferenza. Noi, giovani, non possiamo fare più di tanto se gli adulti e la società decidono già per noi. Se noi ora siamo colpevoli di non avere valori, quante volte si sente questa frase? Forse è perché non ci sono stati trasmessi dall'alto. Se il mondo nuovo vuole essere un mondo migliore, allora noi giovani dobbiamo essere sensibilizzati, perché se il cambiamento non arriva dall'alto, dal mondo vecchio, dovrà per forza arrivare dal basso, dal mondo nuovo. Bisogna dunque prendere coscienza del fatto che non ci sono solo alcuni compevoli, ma che lo siamo tutti. Questo porta alla logica conseguenza che tutti, giovani e adulti, devono collaborare per un cambiamento di tipo radicale. In ogni epoca ci sono sempre state due possibilità di interpretare i cambiamenti, che attualmente sono. La prima, quella negativa, in cui l'egoismo dell'uomo continuerà a dominare il mondo. Di conseguenza non ci saranno cambiamenti, ma solo peggioramenti, come ad esempio i disastri ambientali e climatici causati finora. Le persone avranno sempre diritti differenti, basati su razza, religione, ceto sociale e sesso. Il divario tra ricchi e poveri sarà sempre maggiore. La tecnologia andrà sempre più avanti e ci distanzierà maggiormente dalla realtà e dai rapporti con il prossimo. Regnerà l'individualismo. All'opposto, la seconda possibilità di interpretazione dei cambiamenti è positiva. In quest'ottica l'uomo diventerà altruista e comincerà a curarsi del prossimo. Ci saranno dei cambiamenti sui disastri ambientali e climatici a cui l'uomo comincerà a far fronte. Finalmente ci renderemo conto che dovremmo lottare tutti insieme per un mondo nuovo, migliore. Riusciremo ad aiutare i Paesi meno sviluppati. Unendo le nostre culture, miglioreremo il nostro mondo. L'esperienza dell'anziano si congiungerà con l'ingegno del giovane. Le persone avranno tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità, in quanto esseri umani, tutti figli della stessa terra. Tutto ciò dipende da che strada decidiamo e decideremo di imboccare. Penso che l'uomo cambierà, migliorando se stesso e il luogo in cui vive. Ma qual è il ruolo della letteratura in questa presa di decisione? Essa può, come nei secoli passati, fungere da ancora culturale alla realtà. La letteratura può fornire la conoscenza necessaria alla comprensione del mondo attuale, delle sue derive e delle sue potenzialità. La storia e le storie con la S maiuscola delle persone possono e potranno essere meglio comprese e capite grazie alla letteratura. Il mondo è sempre più veloce e tecnologico e ciò ha sicuramente risvolti positivi, ma anche negativi. La letteratura può arginare questa negatività, o meglio, può aiutare a meglio utilizzare il lato positivo ed educativo della tecnologia. Sempre di più la scienza tecnologica facilita oltremodo la vita dell'uomo, rendendolo così disabituato alla fatica. Non curo l'ortografia, tanto c'è il correttore. Non uso la mia fantasia, tanto c'è internet che mi può dare idee preconfezionate. Non esprimo a parole le mie emozioni, tanto ci sono gli emoticon. Questa lista di esempi potrebbe andare avanti fino all'infinito. In tutto ciò, la letteratura può ancora salvarci. Sia essa utopica, distopica, realistica, fantastica, fantascientifica, poco importa. Essa è inutile di conoscenza e questo può permettere di far tornare le persone con i piedi per terra. O meglio, si è da una terra meno virtuale, più concreta. Insomma, su di un mondo nuovo. Grazie. Ecco, non sono ripetente. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi. Oggi abbiamo sovvertito un po' il protocollo, avrete immaginato. Quindi do il saluto all'onorevole Emanuele Bertoli che interverrà tra qualche istante e anche al consigliere municipale, capo della cultura, Davide Dosi, anche lui per un saluto della Municipalità e saluto anche il sindaco Bruno Grigoni e tutta la Municipalità. Recentemente ad Ascona ha avuto luogo un festival tipo il nostro letterario che si chiamava il titolo Sulle spalle dei giganti. Beh, se per giganti intendiamo delle persone che grazie alla loro opera, il loro pensiero, le loro prese di posizione hanno influito profondamente sull'epoca in cui sono vissuti e su quelle che gli succederanno, diventando dei punti di riferimento per altri scrittori o semplici lettori come noi, che si sono riconosciuti in quanto da loro creato persone che, anche ad anno della propria incolumità, si sono profilate con coerenza la difesa dei diritti e della dignità degli esseri umani, nonché per la convivenza pacifica tra i popoli, allora possiamo affermare con gioia che questa sera abbiamo il privilegio di avere con noi un gigante della nostra epoca. Benvenuto, vuole Sojinka, al nostro festival. Però ecco, per investigare il tema del mondo nuovo ci siamo affidati anche degli scrittori che amiamo molto, che siamo veramente molto contenti di avere qui con noi, alcuni di loro anche presenti in sala, quindi saluto Andrea Baiani e Andrea Pomella, benvenuti. Dalla Francia, Antoine Volodin, benvenuti. Dall'Egitto, grazie ai buoni uffici dell'ambasciata svistra del Cairo, Basma Abdelaziz. Dal Brasile, Julian Fuchs. Dalla Germania, Hans Joachim Rodelius, un altro splendido 84enne. E dalla Svizzera, Odesegne. Spero di non aver dimenticato nessuno, se no sparate pure sul presentatore. Ora la parola per un saluto del Consiglio di Stato al direttore del Dipartimento della Cultura e dell'Educazione dello Sport, Manuele Bertoli, che da diversi anni dà il saluto. E siamo ben contenti quest'anno nel programma. Non era ancora stato attribuito il di Castero, ma noi l'abbiamo rischiato, l'abbiamo messo appunto. Grazie mille, è sempre un grande piacere partecipare a questa apertura in un posto per me vicino alle mie origini e in un contesto tra i diversi contesti del canton ticino di grande qualità che propongono cultura, in questo caso in ambito letterario. Il tema di quest'anno è uno di quei temi appassionanti anche se possiamo verificare un po' dalla storia quanto si è cambiato nel tempo se fino a qualche decennio fa, qualche secolo fa il mondo nuovo era un concetto geografico perché il mondo sembrava infinito da conoscere, da esplorare e le esplorazioni sono andate avanti fino a non tantissimi anni fa addirittura un grande musicista scrisse una sinfonia del nuovo mondo pensando in quel caso all'America, eravamo alla fine dell'Ottocento e Dvorak proprio in America scrisse e fece suonare la sua famosissima sinfonia del nuovo mondo oggi questo concetto è un concetto diverso il mondo è finito, è piccolo, ce l'hanno ricordato prima anche i ragazzi della scuola media è conosciuto almeno da chi vive da questa parte del mondo in maniera abbastanza dettagliata abbiamo i satelliti che ci girano attorno e che lo scandagliano costantemente e quindi il concetto di nuovo mondo non è più il concetto dell'infinito il concetto del qualcosa d'altro da scoprire il mondo non è nuovo, è quello che è sempre stato, è lì il mondo nuovo dobbiamo scoprirlo dentro di noi nelle relazioni, nella capacità o nell'incapacità dell'uomo di gestirlo e ancora una volta ce l'hanno ricordato bene i ragazzi di scuola media e come farlo senza la cultura come farlo senza uno strumento forte come quello della cultura forse uno degli unici che abbiamo come chiavi di lettura di qualcosa che può essere una diversa modalità di affrontare il mondo di gestirlo e di non rovinarlo meglio di prepararlo per le giovani generazioni beh questo è il tema di questa edizione di Chiasso letteraria che naturalmente si occuperà di letteratura ma credo che andrà anche a in qualche modo a toccare altre discipline è una bella offerta alla popolazione del Mendrisiotto della Svizzera italiana, del Ticino è un programma di grande qualità e io faccio tutti gli auguri affinché anche alla fine si tiri un bilancio positivo sono sicuro che sarà così come è stato nelle scorse edizioni cominciamo davvero con qualcuno di molto importante ma anche il resto merita di essere seguito grazie mille e buon festival a tutti ringraziando il direttore Marco Ecolò i docenti che ci hanno fatto il lavoro con i ragazzi do la parola al capo di Castiero del di Castiero Cultura Davide Dosi che tra l'altro sul finale avrà anche una sorpresa per il nostro ospite amiche e amici di Chiasso Letteraria l'ignoto da sempre attrae e spaventa ed è oggetto delle arti dell'uomo i primi esempi di raccolti fantastici risalgono probabilmente all'alba dell'umanità ma secondo alcuni specialisti si può iniziare a parlare propriamente di fantasia e letteratura fantastica con le fiabe e le favole la fantascienza vera e propria venne molto dopo sostanzialmente solo a seguito della nascita della scienza moderna il tema conduttore di questa edizione di Chiasso Letteraria il mondo nuovo ci invita a riflettere sui cambiamenti, le mutazioni che stanno trasfigurando il mondo delineando scenari che a dipendenza degli sguardi possono essere apocalittici o rinnovatori per dirle con la parola degli organizzatori nuovo e vecchio sono davvero degli opposti per gli europei di fine 500 abitanti del vecchio continente o vecchio mondo o continente antico ossia di quella parte della terra conosciuta prima delle scoperte di Cristoforo Colombo o più limitatamente della sola Europa l'espressione nuovo mondo indicava il nuovo continente dell'America dove negli anni scusate a seguire confluirono persone provenienti da tutti i continenti alcune deportate altre per libera scelta formando una nuova società vecchio e nuovo i vecchi europei si imposero sui nuovi indigeni ma chi erano i vecchi e nuovi in realtà? e nel corso degli anni dei decenni portarono in quelle terre le regole a loro note chissà quanti racconti fantastici produssero gli attivi delle Americhe e chissà come vedevano i nuovi vecchi europei loro vecchi abitanti di quelle terre d'oltremare la fantasia affronta temi concreti con leggerezza o esasperazione a dipendenza dalla forma che le viene data la fantascienza ha la declina in ambienti scientifici ritenuti all'avanguardia nel momento in cui vengono descritti o raccontati nel suo romanzo degli anni 30 Huxley tratteggia un mondo nuovo che però agli occhi del lettore odierno potrebbe sembrare attuale o forse addirittura vecchio su temi ad esempio quali leogenetica di nuovo vecchio e nuovo un conflitto perenne che scandisce la quotidianità le relazioni fra le persone fra le diverse concezioni del mondo e della vita uno scontro che animerà le prossime giornate della nostra cittadina nel suo piccolo immerse in questi anni notevoli mutazioni e cambiamenti in primis a livello sociale basti pensare all'immigrazione e agli effetti di un mercato del lavoro che sta mettendo in ginocchio un gran numero di persone di colpo proiettate in margine dalla società la realtà ci impone di immaginare soluzioni innovative che forse oggi potrebbero essere bollate come fantascientifiche in grado di dare una risposta concreta ai nuovi bisogni emergenti infette sempre più ampie di popolazioni nel vecchio ossia nel passato potremmo forse attingere per trovare delle risposte ma non possiamo limitarci a rimpiangerlo o a rivendicarne il ritorno per migliorare la nostra condizione quindi spazio alla letteratura agli incontri ai suoi protagonisti e personaggi sperando di trovare in loro gli spunti utili per immaginare un futuro migliore a nome del municipio di Chiasso e dei colleghi qui presenti ringrazio di cuore tutti i colori coloro che rendono possibile questo festival che è entrato nel cuore della nostra cittadina e che ha contribuito a far sì che il nostro comune attraverso il suo centro culturale sia recentemente stato premiato dalla fondazione Svizzera per il premio Doron quale faro di cultura nell'estremo sud della Svizzera grazie dunque ai frontman Marco Galli Franco Ghielmetti Sebastiano Marvin ma anche e voi mi considerate consentirete anche di dire soprattutto a tutte le volontarie e i volontari che si dedicano con grande passione a questo evento senza ovviamente dimenticare le collaboratrici e i collaboratori del centro culturale Chiasso della Casa Anziani e dell'ufficio tecnico comunale cui va un ringraziamento speciale per l'impegno e la professionalità che sempre dimostrano a tutti a tutte e tutti voi rinnovo i classici vecchi auguri di Buon Festival It feels like science fiction but it is not it is a rather exceptional and unique opportunity to meet a Nobel Prize for literature furthermore in our own hometown This year the committee of Chiasso letteraria made us all a wonderful gift by giving us the possibility to welcome Wole Soinka winner of the Nobel Prize in 1986 and nowadays considered the most influent African playwright Since many years Chiasso welcomes people from all over the world some of them as renowned guests of our festivals others as new citizens of our town looking for a better future Mr. Soinka on behalf of the town hall of Chiasso and together with our major Bruno Arrigoni I'm very pleased and honored to welcome you and to award you with our highest honor a silver medal with a coat of arms of Chiasso as a sign of gratitude for your strenuous defense of human dignity and peaceful coexistence among people and to acknowledge the importance of your presence in our small town applause of Chiasso and to